Un po' di tristezza, però... tristezza bella, insomma. No, questo non lo so, lacrimoni forse. Ottimo! Speriamo. Vorrei parlare di Precipitazioni, un album che sicuramente ha tanti generi musicali, ma anche tante emozioni, perché è un album che ovviamente parla del terremoto di Matrice e so che in un certo senso ti ha toccato particolarmente. Come sei stato in grado di unire tutte queste emozioni attraverso i vari generi musicali? Quindi, brano dopo brano, raccontare la tua storia. Ma, vabbè, di base voglio ringraziare Alberto Brutti che mi ha aiutato. Cioè, ha prodotto l'album e quindi mi è stato dietro costantemente, musicalmente. Ogni cosa che volevo l'ascoltata e l'ha prodotta in quel modo, insomma. Mi è stato veramente dietro. E in quel periodo ci stavo passando un momento un po' strano, molto strano, in cui ti sembra veramente che ti manca la terra sotto i piedi. Quindi, è una certa scuoccia tutto su questa tristezza, su questa depressione. e si sembra quasi veramente di non esserci, di forse non esisteremo.